Scansione del pc, nessun file c'entra sicurezza, è tutto a posto, clicca, elimina l'applicazione, qual'è questa applicazione che mi vuole eliminare, non lo fa eliminare qualche applicazione, non li voglio eliminare proprio niente, vediamo un po' che sono permessi, che sono questi permessi, rifiuto, rifiuto, ah, si può bloccare, circa virus, non ce ne stanno applicazioni da noi, ok, stop e telefono, non c'è la registrazione. Grazie. Grazie.